Ciao, sono Claudia e sono un'alumna. Sono una fisioterapista, mi sono laureata in Humanitas, adesso per fare esperienza frequento uno studio privato qual è l'invenzione del piacentino. Dopo tre anni comunque vissuti intensamente a stretto contatto con compagni e docenti, ho finalmente avuto il piacere di provare la gioia e il dispiacere del distacco. Credo che un po' tutti in seguito comunque alla gioia della laurea abbiano provato un senso di smarrimento, come le prime volte a chi si lascia a casa, proprio perché si viene catapultati in un mondo completamente nuovo e sconosciuto che è il mondo del lavoro. E il bello della community di alunni è che ti alleggerisce un po' questo senso di smarrimento, permettendoti di rimanere a contatto sia con i tuoi colleghi che con i tuoi docenti in modo da condividere esperienze e rubare ancora anche qualche consiglio. In più, grazie alla community di alunni posso anche rimanere aggiornata su corsi, seminari, proprio questi dell'università, che mi permettono di continuare nel mio percorso formativo. Quindi adesso con l'app questo è ancora tutto più semplice a portata di mano, proprio perché poi riesce a chatare tranquillamente con i colleghi e rimane anche sempre di più aggiornato su questi corsi e seminari e avere un punto di riferimento così è incredibile, soprattutto in questo momento. Quindi che aspettate? Scaricate l'app e ci vediamo tra gli alunni!